Erano state trovate a pascolare all'interno di una vera e propria discarica piena di rifiuti anche pericolosi, tra cui l'amianto. Erano state così sottratte all'allevatore e per l'aria a vicomaggio erano scattati i sigilli. Adesso per le oltre 60 pecore e capre salvate inizia una nuova vita. Sono state infatti affidate ad un'altra azienda a retina. Era lo scorso maggio quando i carabinieri forestali, assieme ai colleghi del NASA di Firenze, avevano scoperto l'allevamento all'interno dell'aria contaminata da mianto. Il PM Laura Taddei aveva così richiesto ed ottenuto il sequestro preventivo dell'azienda, disponendo un controllo sanitario degli animali tramite il servizio veterinario dell'asla di Arezzo. I capi allevati erano stati trovati con zoppie, segni di sofferenza ed altre patologie derivanti sembrerebbe da uno stato di cattiva detenzione. I militari poi, grazie al supporto dei colleghi di Sansepolcro, si erano messi alla ricerca di una sede alternativa per gli animali. Dopo un lungo e complesso lavoro, un'importante azienda agricola della Valtiberina si è resa disponibile a dare un futuro migliore a quegli animali. Ieri, con il supporto dei tecnici del servizio veterinario dell'asla di Arezzo, capre e pecore sono state trasferite ai prati dell'Alpe della Luna. È la prima volta che in provincia di Arezzo un intero allevamento di capre e pecore viene definitivamente sottratto al proprio allevatore, indagato per maltrattamento di animali e affidato ad un'altra azienda agricola Retina. Adesso l'area oggetto di indagine potrà essere finalmente bonificata.